Non usa mezzi termini lo svedese per parlare dell'ultima sua squadra italiana, il Milan. Ibrahimović è consapevole delle difficoltà della dirigenza rossonera, ma comunque il giudizio è netto. Sulla Juventus, invece, non ha dubbi.io, il Milan e la Juve, questo Milan non è lo stesso che ha fatto innamorare migliaia di tifosi in Italia e, nel mondo. È un disastro, molte parole, pochi fatti. Principali imputati i dirigenti forse c'è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti, ma lo svedese non individua. In Maldini il principale responsabile, da calciatore era tra i miei preferiti, da dirigente non posso giudicarlo. Ma non ha un compito facile, deve fare bene con risorse, limitate. Sulla Juventus, la sua prima squadra italiana, non ha dubbi, è la favorita per lo scudetto, ma la Champions è una cosa diversa e la vittoria non, dipende dal potenziale. Prendete ad esempio il PSG, squadra superiore a tante, ma in Europa arranca. Copyright riproduzione riservata a Let's Block Ads. Prendete a Let's Block Ads. Prendete a Let's Block Ads.